Nietzsche, Pasolini e Heidegger una delle ragazze tenute in schiavitù urla Dio perché ci hai abbandonato ecco queste due figure stiano essenzialmente la stessa cosa siano sovrapponibili e denunciano in ultima istanza l'avanzata di quel qualcosa che dopo Nietzsche con Pasolini poi chiameremo capitalismo, tecno anche capitalismo e così via ecco questo in me ha stonato nel senso che non mi sembra che queste figure siano sovrapponibili e a queste aggiungerei, poi vedremo meglio dopo perché la figura heideggeriana dell'oblio dell'essere che è un'altra cosa ancora rispetto a queste due figure nicciane e pasoliniane ovviamente hanno dei punti di contatto queste figure appena nominate cioè l'annuncio nicciano della morte di Dio che è presente in Così parlo a Zaratustra e la Gaia Scienza Salò di Pasolini soprattutto questa immagine, questa sequenza appunto della ragazza che urla Dio perché ci ha abbandonato e un'altra collegata a questa di quel ragazzo che un istante prima di essere ucciso a colpi di pistola dai girarchi della villa alza il pugno sinistro facendo il segno tipico del comunismo e dall'altra parte questa figura appunto questa concezione heideggeriana dell'oblio dell'essere sicuramente hanno qualcosa in comune ma questo qualcosa in comune non fa in modo che i loro discorsi siano sovrapponibili è molto più rilevante quello che hanno di diverso queste figure l'una dall'altra e l'importanza di rilevare questa differenza a mio parere non consiste nel fatto di dover poi parteggiare per l'uno o per l'altro cioè dire Nietzsche è così, Pasolini è così, Heidegger è in quest'altra maniera e poi allora diventiamo fan dell'uno o dell'altro non è una questione di supportare il pensiero non funziona supportando il pensatore X o il pensatore XY ma comprendendo un certo pensatore quindi non è una questione di fanatismo per uno o per l'altro né una questione di un semplice esercizio filologico accademico con la pretesa di comprendere cosa ha veramente detto Tizio cosa ha veramente detto Caio niente è più lontano da me di questo grigiore filologico è invece un tentativo di andare a vedere le differenze perché andando a vedere le differenze il nostro pensiero diventa più acuto più profondo, più sottile, più raffinato quindi non per diventare poi fan di Tizio o di Caio né per voler riportare con esattezza alla lettera cosa ha detto Tizio o cosa ha detto Caio peraltro impresa assolutamente impossibile con buona pace tutti gli accademici odierni ma perché fare questo tipo di attività fare questo tipo di esercizio del pensiero rende il nostro stesso pensiero più raffinato e allora per mettere a confronto queste tre figure ovviamente ora io mi limito a queste tre figure nel pensiero di questi autori bisogna sapere cosa esse siano e certamente il conoscitore di Nietzsche e Pasolini Heidegger già lo sa e peraltro per dire cose esse siano servirebbero ore ed ore per ciascuna di esse quindi ora qui mi limito in maniera veramente elementare e rozza a dire in poche parole cose esse sono soltanto per usare questa come introduzione al discorso che poi in questo momento mi preme che è quella appunto di sottolineare più cosa hanno di diverso l'uno dall'altro che di simile sono peraltro figure notissime per quanto riguarda l'annuncio nicciano della morte di Dio presente in così parlo a Zaratustri nella Gaia Scienza ma la figura è la stessa ecco con questo questa è una delle figure chiave di quella che Nietzsche chiama la trasvalutazione di tutti i valori ovvero il fatto che la sua proposta filosofica consiste nel descrivere come nell'epoca moderna sia in corso il passaggio come lo chiama lui dal sovrasensibile al sensibile cioè dall'extra mondano possiamo dire dallo spirituale dal metafisico a ciò che è mondano questa transizione di valori è una transizione da accogliere in maniera positiva perché ci permette di liberare l'uomo da tutti quelli che sono stati i lacci che in passato attraverso la religione che per Nietzsche non è l'unica forma di limitazione dell'umano e attenzione c'è anche lo Stato c'è anche il desiderio di fare soldi ma la religione è uno dei lacci più potenti ecco tutti questi lacci in primis la religione che in passato non hanno consentito all'uomo di diventare chi è diventa te stesso è uno dei motti principali nella filosofia di Nietzsche attenzione non di essere chi è ma di diventare chi è è una cosa diversa adesso non possiamo approfondirlo ma è una cosa diversa perché il diventare è un processo è una condizione con la quale uno nasce al tempo stesso come è ma diverso da come è e poi deve compiere un percorso per coincidere con la natura con la quale è nata quindi diventare diventare non semplicemente essere diventare chi si è e la religione ecco è per Nietzsche uno dei lacci più forti che prevengono dal diventare chi si è e quindi accoglie positivamente questo passaggio che lui definisce appunto come quello dal sovrasensibile al sensibile ovvero il taglio di questo tipo di laccio che ci previene dal diventare chi si è ecco perché il nichilismo è per lui qualcosa da accogliere a braccia aperte perché il nichilismo non è per lui assenza di valori il nichilismo è appunto cambiamento appunto trasvalutazione di valori cioè il fatto che quelli che in passato consideravamo essere valori e che avevano questa impronta di tipo religioso in futuro non lo saranno più e saranno sostituiti da altri autentici valori che saranno quelli che permetteranno all'uomo di diventare jubermensch cioè oltre l'uomo ovvero di diventare se stesso nichilismo è una formula che usano coloro i quali non comprendono o non vogliono che tutto questo accada e quindi questa trasvalutazione dei valori la definiscono come nichilismo cioè come il fatto che una volta estinti i valori tradizionali non ci saranno più valori nichilismo ma questo è soltanto il punto di vista di chi non vuole non capisce quello che sta succedendo invece quello a cui andiamo incontro è un cambiamento di valori per questo Nietzsche dipinge questa epoca moderna come un'epoca di transizione dalla fine della metafisica all'inizio di un'altra stagione dell'umanità problema è però che questo cambiamento è annunciato dallo Zaratustra al mercato è fondamentale questa localizzazione annunciarlo al mercato perché è fondamentale? innanzitutto vorrei aprire una piccola parentesi e dire altre due sfumature molto importanti nel discorso nicciano perché se siamo qui se sono qui cercando di dire quali sono le differenze tra un autore e l'altro è un'occasione anche per evidenziare un altro tipo di altri tipi di differenze ovvero dicevo un istante fa che l'epoca moderna è descritta da Nietzsche come l'epoca del passaggio dal sovrasensibile al sensibile qualcosa di positivo perché ci libera dai lacci del mondo sovrasensibile che finora ci hanno impedito di diventare chi siamo bene però attenzione questo ne significa che il discorso di Nietzsche è un discorso che ci parla della secolarizzazione non significa questo Nietzsche parla del passaggio dal sovrasensibile al sensibile la secolarizzazione termine fondamentale della filosofia moderna e contemporanea è un'altra cosa ancora prima secondo questo neanche significa che il discorso di Nietzsche sia un discorso semplicemente di tipo illuministico per il semplice fatto che parla di questa di questa liberazione dalla religione e per il fatto che storicamente ha vissuto nell'epoca immediatamente post-illuministica non è affatto così non è affatto così perché un certo tipo di iper-razionalizzazione dell'umano costituisce a sua volta un nuovo laccio un nuovo blocco che impedisce all'uomo di diventare se stesso e diventare se stesso non significa semplicemente liberarsi da ciò che è irrazionale e da ciò che alla luce della razionalità consideriamo superstizione diventare se stesso significa liberarsi possiamo dirla così da qualsiasi superstizione inclusa quella della mitizzazione della razionalità il diventare se stessi non è un semplice processo di iper-razionalizzazione dell'umano siamo al di fuori di quest'ottica illuministica ecco se vogliamo vedere le differenze è utile però vedere anche le ugualianze in questo punto limitatamente a questo punto il discorso di Nietzsche è esattamente lo stesso di quello che un secolo dopo faranno Orkheim e Radorno nella dialettica dell'illuminismo sostenendo che l'illuminismo non ha fatto altro che sostituire all'autorità della parola Dio l'autorità della parola ragione ma rimanendo sempre all'interno di un perimetro autoritario e sostanzialmente mitico si è sostituito il totem ma siamo sempre all'interno della totemizzazione di qualcosa tornando a Nietzsche ecco la cosa importante di questo annuncio della morte di Dio è che lo Zaratustra lo fa al mercato questo annuncio localizzarlo al mercato rappresenta simbolicamente la descrizione del fatto che l'esserci liberati dai lacci religiosi del passato che non ci consentivano di diventare noi stessi attraverso l'aiuto della razionalità ci ha condotto però in un nuovo vicolo cieco in una sorta di nuovo cul-de-sac che è quello descritto da Nietzsche con la parola mercato e che è uno dei possibili risultati della razionalizzazione dell'umano famosissimo è per esempio quell'aforisma di Nietzsche che dice di tutto conosciamo il prezzo di niente il valore una conferma del fatto che come dicevo un istante fa quello di Nietzsche non è un discorso illuministico perché anzi anzi lui imputa imputa ad una distorsione mondana quindi potremmo dire ad una perversione della razionalità il fatto di averci si liberato da un vecchio laccio quello della religione ma di averne costruito un altro forse anche più stretto cioè quello derivante da una certa iperrazionalizzazione dell'umano che in questo momento fine dell'ottocento Nietzsche descrive come mercato è una sintesi brutale come dicevo in precedenza stessa brutalità nei confronti di Pasolini ecco le figure descritte da Pasolini in Salò relativamente al confronto che sto cercando di fare adesso sono come dicevo quelle di quella ragazza che urla Dio perché ci hai abbandonato lo urla se mi ricordo bene in due occasioni una volta quando è per terra insieme ad altri giovani tenuti in schiavitore una volta quando si trovano nelle botti di letame è quella di quel ragazzo che colto dai gerarchi nazisti nel fare l'amore con una con la cameriera di colore della villa viene ucciso per questo a colpi di pistola e un istante prima di essere ucciso alza il pugno sinistro facendo il simbolo tipico del comunismo ecco ad una lettura superficiale potrebbe sembrare che in questo Pasolini stia narrando la fine delle ideologie cristianesimo da una parte Dio perché ci ha abbandonato comunismo dall'altra in realtà quello che Pasolini sta parlando è e lo si capisce leggendo ad esempio l'ultima intervista che rilasciò proprio il giorno prima di essere ucciso quello di cui Nietzsche sta parlando è un fenomeno che lui chiama fine delle utopie non delle ideologie attenzione altrimenti il discorso di Pasolini diventerebbe simile se non addirittura identico a quello di Lyotard nella condizione postmoderna quando parla della fine delle grandi narrazioni cioè delle ideologie politiche prospettiva peraltro che non ci consente di cogliere il fatto che anche quella del capitalismo del consumismo e ancora di più di quel fenomeno che troppo semplicisticamente chiamiamo tecnoscienza è un'ideologia non soltanto quelle politiche sono ideologie ecco il discorso di Pasolini non è sovrapponibile a questo tipo di discorso di Lyotard perché Pasolini ci parla della fine come le chiama lui delle utopie che cos'è questa fine delle utopie è la fine della capacità di andare oltre rispetto a ciò che è qui ed ora la capacità di trascendere la capacità di eccedere l'esistente il qui ed ora e il modo specifico in cui facciamo questo è soltanto un pretesto per fare questo che sia attraverso il cristianesimo o che sia attraverso il comunismo ciò che è importante non è il cristianesimo in quanto tale o il comunismo in quanto tale ciò che è importante è che queste utopie infatti le chiamo utopie non ideologie ci consentono di fare questo movimento cioè di andare oltre rispetto a ciò che è qui ed ora l'utopia che utilizziamo per fare questo è solo un pretesto c'è una frase secondo me sottovalutata ma molto importante di Pasolini nella quale lui dice il sesso è solo un pretesto descrivendo il suo rapporto con i giovani delle periferie e del sottoproletariato romano intendendo dire che quello che contava nel suo relazionarsi con quelle forme di vita con quelle forme di vita era riuscire ad accedere ad una forma di vita appunto che non fosse borghese che non fosse antropologicamente mutata ora io posso soltanto riferire in maniera telegrafica queste parole chiave della poetica pasoliniana borghesia e mutazione antropologica ho scritto delle cose al riguardo se qualcuno ha la pazienza di andarle a cercare Sbugger le troverà comunque in questo momento quello che conta è che appunto per lui relazionarsi con quelle forme di vita era un modo per andare alla ricerca di qualcosa che non fosse per dirlo nei suoi termini antropologicamente mutato e il sesso in tutto questo era solo un pretesto per fare questa operazione ecco perché è così importante questa frase il sesso è solo un pretesto oltre che al mio modesto avviso per capire adeguatamente Pasolini ma perché questa stessa frase la si può utilizzare alla perfezione per comprendere il suo punto di vista nei confronti di queste utopie cristianesimo e comunismo e questa frase diventa il cristianesimo è solo un pretesto il comunismo è solo un pretesto perché quello che conta è che ci permettono di andare oltre ciò che è qui ed ora ci permettono cioè di andare verso quella che più o meno nello stesso periodo dall'altra parte dell'oceano senza essere mai stati in contatto direttamente purtroppo Marcuse definirà come la promesse de bonhe la promessa di felicità ecco ancora una volta sono qui per cercare di far vedere le differenze perché vedere le differenze come dicevo all'inizio rende il nostro pensiero più raffinato però questo non significa andare a cercare le differenze anche dove non ci sono bisogna anche vedere i punti nei quali due persone stanno dicendo la stessa cosa come dicevo prima riguardo Nietzsche e la dialettica dell'illuminismo ora lo dico riguardo Pasolini e Marcuse su questo specifico punto su questo specifico punto che Marcuse sviluppa in una maniera del tutto diversa parlando di termini chiave come unidimensionalità bidimensionalità desublimazione repressiva cose che non troviamo in Pasolini però su questo specifico punto stanno dicendo la stessa cosa cioè che quel qualcosa che Pasolini definisce come utopia è solo un pretesto per superare la condizione del qui ed ora cioè quello che Marcuse chiama l'ordine di cose stabilito ed accedere verso l'alterità l'ulteriorità la promessa de boner la promessa di felicità quindi non abbiamo a che fare con la denuncia della scomparsa della ideologia del cristianesimo e della ideologia del comunismo sostituiti dal capitalismo e dal consumismo non è affatto questo peraltro ecco attenzione anche la denuncia pasoliniana anche la critica pasoliniana del capitalismo e del consumismo ha esattamente gli stessi contorni e si svolge esattamente negli stessi termini di quello che ho appena detto a proposito delle utopie ovvero così come per quanto riguarda questo discorso nelle utopie non è importante il cristianesimo in quanto tale il cattolicesimo in quanto tale anche nella critica del comunismo e del consumismo non sono importanti il capitalismo in quanto tale e il consumismo in quanto tale come se Pasolini stesse criticando il capitalismo in quanto tale e il consumismo in quanto tale è come se quindi il suo discorso fosse un discorso sociologico e o di economia politica non è questo perché come il sesso è un pretesto così come il sesso è un pretesto così come il cristianesimo è un pretesto così come il comunismo è un pretesto Per parlare di altro, stessa cosa, il capitalismo è un pretesto, il comunismo è un pretesto e la loro critica è un pretesto per parlare di altro, per parlare di quel qualcosa che Pasolini definisce come mutazione antropologica. Sintesi estrema, ancora una volta, anche per quanto concerne la concezione heideggeriana dell'oblio dell'essere, che troviamo sparsa in tutta la produzione filosofica di Heidegger, in cosa, detta in maniera troppo sintetica, questo fenomeno consiste? Consiste nella dimenticanza del rapporto che abbiamo con l'essere. Il rapporto, l'incontro, dice Heidegger, l'incontro che abbiamo con l'essere è ciò che rende il mondo esattamente così com'è e non in un altro modo, ciò che rende la Fusis, cioè tutto ciò che esiste, esattamente ciò che è e non qualcosa di altro, e questo senso della Fusis, senso di tutto ciò che esiste, non dobbiamo intendere Fusis banalmente solo come natura, Fusis è tutto ciò che esiste esattamente così com'è esiste, questo senso della Fusis è dato non semplicemente dall'uomo, né semplicemente dall'essere, ma dall'incontro, dall'incontro dell'uomo con l'essere. C'è un'immagine molto forte che Heidegger usa per descrivere questa condizione, un'immagine presa da Eraclito e incisa all'ingresso della baita heideggeriana nella foresta nera, e che dice il fulmine governa ogni cosa, per dire che il senso che noi diamo alle cose è come se derivasse dallo stare dell'uomo in una foresta di notte al buio, una foresta nella quale poi arriva un fulmine, che per un istante squarcia l'oscurità e illumina le cose intorno all'uomo, che poi ritornano nell'oscurità, ma da quel momento in poi l'uomo crederà che le cose stanno così come gli sono apparse in quell'istante di luce, e così organizzerà il proprio stare al mondo, così darà senso a se stesso e alle cose del mondo, a tutto ciò che esiste, ovvero alla Fusis. Ma attenzione, questo significa che non soltanto le cose ci appaiono diverse in base a come il fulmine le illumina in quell'istante, ma ci appaiono diverse anche in base a come sono i nostri occhi in quell'istante in cui il fulmine ci travolge, a qual è la posizione dei nostri occhi proprio in quell'istante. E questo significa che il senso non sta né semplicemente nei nostri occhi, né semplicemente nel fulmine, ma nell'incontro dei nostri occhi con il fulmine, nell'incontro. Il senso non sta né semplicemente nella soggettività, né semplicemente nell'oggettività, ma nell'incontro, e che è anche un qualcosa di completamente altro rispetto alla mera somma aritmetica di soggettività più oggettività. La posizione degli occhi e il fulmine. Ecco, l'oblio dell'essere è la dimenticanza di questa condizione. La dimenticanza di questa condizione che però, nella quale però, siamo pur sempre esposti a questa condizione. Perché la dimenticanza del nostro rapporto con l'essere è pur sempre un rapporto con l'essere. Da questo non si sfugge. E per questo, peraltro, Heidegger dice che l'essere umano è impossibilitato a diventare una mera cosa, anche quando tratta se stesso come mera cosa. Perché il suo trattarsi come mera cosa è pur sempre l'esito di un rapporto con l'essere. Sia esso anche un rapporto di dimenticanza. Ecco, dopo aver descritto in maniera così troppo sintetica queste figure, la figura nicciana della morte di Dio annunciata dallo Zaratustra, quella pasoliniana in Salò, dei ragazzi che urlano Dio perché ci ha abbandonato e dell'altro ragazzo che viene ucciso alzando il pugno chiuso e l'oblio dell'essere a Heideggeriano. Ecco, adesso perché quello che mi interessa dire è che queste figure non sono sovrapponibili? Perché l'annuncio nicciano della morte di Dio è l'annuncio della fine di un certo tipo di metafisica a cui seguirà una nuova stagione positiva per la essere umano, nella quale potrà essere se stesso, quindi questa dinamica di transizione dal sovrasensibile al sensibile è qualcosa di positivo, va accolta a braccia aperte, in questo senso il nichilismo, che il nichilismo non è per Nietzsche, è un qualcosa di positivo perché segna la fine di un certo tipo di metafisica e l'inizio di un'altra stagione umana. Il problema però è che questa dinamica la stiamo sviluppando in una maniera sbagliata che ci porta verso quel problema descritto come mercato, ma se e quando saremo in grado di liberarci da questo problema, allora questa dinamica diventerà un qualcosa di completamente positivo, tant'è vero che lo Zaratustra quando annuncia la morte di Dio e viene considerato folle da tutte le altre persone che stanno intorno a lui, alla fine getta la lanterna che ha in mano per terra rompendola dicendo che la gente non è ancora pronta per ascoltare il suo messaggio, il suo annuncio, ma verrà un giorno in cui saranno pronti. Quindi il problema per Nietzsche è la direzione in cui stiamo sviluppando questa dinamica, questo processo, ma non il processo in quanto tale. Per Pasolini non è affatto così. Innanzitutto, attenzione, ci sono già altri due punti per i quali il discorso di Pasolini non è sovrapponibile a quello nicciano. Innanzitutto perché Nietzsche si esprime attraverso un sistema filosofico e un vocabolario filosofico che in Pasolini è del tutto assente e Pasolini si esprime invece in maniera poetica. Con questo non voglio dire che sia meglio o peggio, è una diversità. Primo. Secondo perché i personaggi di Pasolini che annunciano ciò che annunciano non sono mai soli. C'è un gruppo di ragazzi e ragazze quando la ragazza urla Dio perché ci ha abbandonato, non è sola, è insieme ad altri ragazzi mentre urla questo. E l'altro ragazzo, quello che viene ucciso mentre alza il pugno sinistro chiuso, viene ucciso perché si è unito con un altro essere umano, quella cameriera di colore, peraltro questo è un altro simbolismo che ora non possiamo analizzare, viene ucciso perché ha osato unirsi con un altro essere umano. Quindi neanche lui è solo. Non c'è la solitudine, non c'è la solitudine nelle figure di Pasolini che annunciano tutto questo. Lo Zaratustra è solo, in Nietzsche c'è questa solitudine, è solo, è solo, da tutti è considerato folle, tant'è vero che poi si ritira dicendo che non è ancora arrivato il momento in cui le persone possono capire cosa sta dicendo. Quindi c'è questa figura della solitudine che è una grandissima differenza. Ma soprattutto c'è una cosa ancora più grande che li differenzia, ovvero che, come dicevo in precedenza, Nietzsche è come se stesse dicendo che il percorso in sé che abbiamo preso è corretto, solo che adesso ci siamo infilati in un vicolo cieco, ma se riusciamo a riprendere la via maestra il percorso sarà corretto perché ci porterà a liberarci da qualsiasi dogma e laccio che ci previene dal diventare chi siamo. Per Pasolini non è così. Pasolini condanna in toto la direzione che abbiamo preso. Non ci sono altre vie, altre sfumature, altre possibilità attraverso le quali la direzione della nostra civilizzazione potrebbe migliorare. In toto è una condanna verso la nostra civilizzazione, senza alternative, senza possibilità di intravedere qualcosa di altro. In questo, attenzione, Pasolini non è pessimista, è realista. Pasolini è stato ucciso e il suo omicidio, a mio modesto parere, rimane un omicidio di Stato, quantomeno perché lo Stato non ha mai voluto andare fino in fondo. Pasolini è stato ucciso all'età di 55 anni, non sappiamo quindi cosa avrebbe detto successivamente, ma fino a quel momento il suo discorso è questo, una condanna senza appello della civilizzazione occidentale. Non ci sono altre possibilità che potrebbero migliorare la situazione in cui siamo. Quindi non stanno affatto dicendo la stessa cosa. Non stanno affatto dicendo la stessa cosa. Perché lo dicono in maniera diversa, filosoficamente uno, poeticamente l'altro. Perché da una parte è fondamentale la condizione della solitudine, dall'altra parte nessuno dei personaggi chiave è solo, e perché da una parte si sta dicendo che c'è una via attraverso la quale potremmo uscire da questo piccolo cieco e riprendere la via maestra, dall'altra parte ci sta dicendo che non ci sono altre possibilità. Ci siamo infilati in una strada senza uscita rispetto alla quale non ci sono altre possibilità. Non è affatto lo stesso discorso. In tutto questo cosa c'entra Heidegger che a sua volta dice una cosa ancora diversa? Per dirla ora in maniera sempre sintetica perché già abbiamo parlato molto. Il discorso di Heidegger sembra una sorta di integrazione di entrambi i discorsi e di correttivo di entrambi i discorsi. Quello nicciano e quello Pasoliniato. Perché? Perché rispetto a Nietzsche, Heidegger che come è noto ha dedicato molti semestri e molti anni verso la fine degli anni 30 a Friburgo, a Nietzsche e poi nei primi anni 40, nella prima metà degli anni 40 ha pubblicato diversi saggi su Nietzsche fino ad arrivare al 61 al volume vero e proprio spesso intitolato Nietzsche e così di. Insomma Heidegger si è soffermato molto su Nietzsche. Ecco per Heidegger quello di cui Nietzsche sta parlando non è la fine di un certo tipo di metafisica all'inizio di una nuova stagione umana, ma è il trionfo, il compimento, l'esito finale della metafisica occidentale nata da Socrate e Platone in poi. Quindi è come se Heidegger stesse dicendo a Nietzsche tu non stai parlando della fine della metafisica e l'inizio di un qualcos'altro, ma quello che a te sembra la fine della metafisica all'inizio di un qualcos'altro in realtà è il compimento della metafisica occidentale. E quindi il nichilismo, quello che tu chiami nichilismo non è il fatto che chi ne ha paura o non lo capisce lo chiama nichilismo, ma secondo te invece è la trasvalutazione di tutti i valori. Quello che tu chiami nichilismo è il compimento, l'esito inevitabile della metafisica occidentale, che consiste in questa dinamica di dimenticanza di ciò che è ulteriore e rende le cose esattamente così come sono e non diverse da quello che sono. Quindi questo significa, ora la dico in maniera, come dire, drammatizzando, quindi questo significa che non c'è un'altra possibilità di vivere l'evoluzione della metafisica occidentale e con essa quindi anche della civilizzazione occidentale, prendendo un'altra via. Perché la via è questa, è la via dell'oblio dell'essere. All'interno di questo tipo di metafisica non esistono altre possibilità, all'interno di questo tipo di metafisica non esistono altre possibilità. Quindi non dobbiamo aspettare il giorno in cui, parafasando Nietzsche, non dobbiamo aspettare il giorno in cui Zarathustra potrà fare il suo annuncio in un altro luogo rispetto al mercato. Quel giorno non verrà mai, quel giorno non verrà mai, perché dentro la metafisica occidentale c'è solo questo tipo di evoluzione, che è quella che stiamo vivendo. E però attenzione, se il discorso di Heidegger fosse semplicemente questo, allora si distanzierebbe da Nietzsche, ma diventerebbe uguale o simile a quello pasoliniano. E invece non è neanche solo così, per questo si distanzia anche da Pasolini. Perché? Perché rispetto a Pasolini c'è la somiglianza nel dire che non esistono alternative a questo tipo di evoluzione, ma diversamente da Pasolini, Heidegger dice, soprattutto nell'ultima intervista, quella poi pubblicata postuma dallo Spiegel, Heidegger dice che c'è la possibilità, ovviamente non la certezza, non la garanzia, c'è la possibilità che prima o poi il genere umano torni o divenga sensibile all'incontro con l'essere, ovvero consapevole dell'incontro con l'essere. L'essere può ritrarsi, l'essere può manifestarsi, ma in entrambi i casi si tratta di essere consapevoli di questo tipo di incontro. C'è la possibilità che prima o poi l'uomo torni o divenga sensibile a questo tipo di relazione con l'essere. E ovviamente qualora questo avvenisse, quello sì, non quello di cui parlava Nietzsche, ma quello sì, sarebbe il momento della fine di questa metafisica occidentale e quindi anche di questa civilizzazione occidentale e l'inizio di qualcosa di completamente altro. Ma l'inizio di qualcosa di completamente altro è contenuto in un qualcosa di completamente altro, non è contenuto in quello che stiamo già vivendo. Un'ultima precisazione. Perché dico che per Heidegger c'è la possibilità che in futuro l'umanità torni o divenga sensibile all'incontro con l'essere? Perché in quasi tutta la sua produzione Heidegger parla del fatto che c'è stato un tempo, fondamentalmente prima dell'avvento di Socrate e Platone, in cui la verità non era adeguamento, adeguazio, adeguamento tra la cosa e l'intelletto, ovvero un fatto, ovvero quello che poi i latini chiameranno veritas, ma era a leteia, letein significa nascondere, a è l'alfa privativa, quindi a leteia significa disvelamento, era disvelamento dell'incontro con l'essere. Quindi non era un fatto, attenzione, neutrale e oggettivo, non era un fatto neutrale e oggettivo o comprensibile attraverso le categorie della soggettività o dell'oggettività, era disvelamento di un incontro, disvelamento di un incontro. Però c'è un'opera dell'ultimo Heidegger del 64 intitolata La fine della filosofia è il compito del pensiero, già il titolo richiederebbe un'analisi di ore, La fine della filosofia è il compito del pensiero, il che significa che filosofia e pensiero non sono la stessa cosa. Filosofia significa metafisica, cioè quel qualcosa che va da Socrate fino ai giorni nostri, Socrate e Platone quindi, fino ai giorni nostri. Pensiero è un'altra cosa, pensiero è quel qualcosa che ci consente di capire cos'è la filosofia, quindi è un'altra cosa il pensiero. Ecco, in quest'opera, breve e densissima, come fondamentalmente tutte le opere di Heidegger, d'eccezione di essere e tempo, sono brevi e densissime, nel 64 fra le tante importantissime cose che Heidegger dice, dice anche questo. Dice anche che fin dai tempi di Omero, e quindi corregge anche la sua visione precedente, giovanile, dice anche che fin dai tempi di Omero, gli antichi greci scrivevano Aleteia, ma non la intendevano come disvelamento, già la intendevano come fatto, cioè come ortotes, come esattezza del dire, esattezza del dire, ma esattezza del dire significa fatto, non significa disvelamento, significa dato di fatto, non disvelamento. Ecco perché dicevo prima, parlando di Heidegger, bisogna dire che Heidegger lascia aperta la porta alla possibilità che l'uomo in futuro torni o venga sensibile all'incontro con l'essere, torni se assumiamo la possibilità che mai lo sia stato, ma l'ultimo Heidegger sembra scartare questa possibilità, perché anche Aleteia, gli antichi greci al tempo di Omero scrivevano Aleteia, ma intendevano ortotes, cioè esattezza del dire, ma esattezza del dire significa dato di fatto. Oppure quindi c'è la possibilità che forse per la prima volta nella storia del genere umano l'uomo possa diventare consapevole dell'incontro con l'essere, che è ciò che rende tutto ciò che è esattamente com'è e non altro. Ma questo è un altro tema, per me affascinantissimo, ma diverso rispetto a quello che volevo dire oggi, e che consiste nel fatto, adesso concludendo, nel fatto di dire che la figura nicciana della morte di Dio annunciata dallo Zaratustra, i giovani in salò di Pasolini che dicono Dio perché ci ha abbandonato e l'altro che un istante prima di essere ucciso alza il pugno chiuso, e la figura ed egheriana dell'oblio dell'essere, pur se hanno qualcosa in comune ovviamente, non dicono la stessa cosa. E essere in grado di cogliere ciò che di diverso dicono è importante perché ci dà la possibilità di essere più raffinati nel nostro pensiero.